Ha piegato 22 avversari ieri sera il campione italiano Axel Rombaldoni. Con i restanti tre ha accettato l'offerta di patta, chiudendo così la partita simultanea in piazza d'arco senza nemmeno una sconfitta. Si è concluso in gloria l'evento scacchistico organizzato dal Circolo Alto Gardesano per festeggiare 50 anni di attività associazionistica, con tanto di bollicine e magnum stappate alla sciabola grazie al Caffè Trentino. C'è stata soddisfazione, anzitutto, per i tre scacchisti che hanno spuntato il pari al 23enne, grande maestro internazionale. Sono i candidati maestri trentini Claudio Battiston e Giovanni Benaglia e il presidente del Circolo Nettuno, sempre di Trento, Simone Sciboni. Ma la soddisfazione c'è stata proprio per tutti, per il piccolo Riccardo Mazzeo, il campioncino provinciale di appena sei anni, che ha potuto giocare con un avversario così prestigioso, per Umberto Zanin, 86 anni, che ha giocato una bella partita e ha tagliato questo traguardo così importante del club da lui fondato nel 1965, per tutti gli altri giocatori, giovani e adulti, normodotati e con disabilità, anche un non vedente, non esclusa una piccola turista polacca di otto anni. In prima scacchiera si cimentava il sindaco Alessandro Betta, che ha ben figurato con il campione. Gli altri amministratori pubblici, l'assessore allo sport Maria Luisa Tavernini e il vicepresidente di Comunità di Valle Carlo Pederniana, sono invece intervenuti per lanciare la manifestazione, che ha animato la caldissima serata arcense e dato effettivamente spettacolo. Una festa degli scacchi, che deve dei grazie fondamentali al Comune, alla Comunità di Valle, ad AMSA, alla ditta FF Restauri di Cimego, a Caffè Trentino e a Caffè Casinò, al grafico Gianfranco Rizzoli e all'architetto Giorgio Pellotti. Un grazie va anche a Cristina Pernici, l'arbitro arcense, che in agosto sarà impegnata a Ulaan Bator per le Olimpiade di scacchi. Siamo qua con Luca Zanin, presidente del circolo scacchistico. Basso Sarka? Questo è il nome vecchio, attualmente si chiama Circolo Scacchi Arco Altogarda, per rimarcare proprio che è di livello di comunità. Appunto Arco e gli scacchi si conoscono tanto, appunto qua a festeggiare 50 anni, ma anche come qualità Arco ha conosciuto grandi sfide nel passato. Sì, c'è veramente una storia, mezzo secolo, ma non è passato in vano, diciamo. È cominciata la storia nel 1965, quando appunto Umberto Zanin ha fondato questo club e c'era un gruppo anche molto affiatato di persone appassionate di scacchi. Negli anni poi è nato il Festival Internazionale, che tuttora si celebra, diciamo, si gioca al Casinò Municipale d'ottobre, normalmente, con campioni di livello internazionale. Poi c'è un'attività giovanile, continua, ci sono dei tornei, il campionato che facciamo in primavera, proprio per gli under fino a 16 anni. E questo, così, è stato un evento particolare, proprio per rimarcare questo traguardo dei 50 anni, che credo sia particolare un po' per tutto l'associazionismo locale, insomma. Ecco, non è da tutti i giorni. Se qualcuno gli fosse venuta voglia a vedere questo evento, volesse iniziare, come deve fare, quando vi trova? Ecco, a parte proprio il periodo strettamente estivo del luglio-agosto, che è un po' il momento più di bassa stagione, poi con l'inizio della scuola si riprende anche l'attività di circolo e tutte le settimane c'è un momento di ritrovo per gli adulti e per i ragazzi, distintamente. Con anche la possibilità di imparare se si parte da zero. Quindi, evidentemente, la cosa forse migliore per agganciarci è entrare sul nostro blog Arco Scacchi in internet e da lì si trovano qualche riferimento per poi venire a trovarci magari nella sede e cominciare un'attività. Siamo qui con Cristina Pernici di Arco, arbitro internazionale di scacchi. Ci vuole raccontare un po' la sua esperienza? Io ho iniziato a fare l'arbitro nel 90 e ho proseguito la mia carriera, sono diventata arbitro internazionale di categoria B nel 97, per cui è già qualche anno, sono fatto un po' di Olimpiadi, campionati del mondo, giovanili e così. Il prossimo appuntamento è in agosto in Mongolia, alle Olimpiadi giovanili come caposettore. Lei consiglierebbe a qualcuno che non ha mai giocato a scacchi di iniziare? Sì, perché aiuta la mente, aiuta a concentrarsi, specialmente per i ragazzi nelle scuole, aiuta moltissimo.